vai tutto tuo devo farla un po' mondo stadio scusatemi gente di Montecatini in alto i cuori e fuori la voce è il momento di proclamare Miss Montecatini 2022 e con il numero 13 Rebecca Riccetti la numero 13 Rebecca Riccetti e c'è il passaggio della corona Maria che incorona Rebecca Federico io direi di fare una foto con la nuova Miss Montecatini Rubina una foto con loro, con le ragazze ovviamente complimenti Rebecca, complimenti davvero ok andiamo avanti con le foto è finita questa Miss Montecatini ma ci saranno i prossimi esatto 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 infatti ci sarà un anno molto pieno per Rebecca grazie grazie mille grazie a via grazie ragazze un applauso alla Monica ce lo facciamo perché voglio fare anch'io una foto con la nuova Miss foto anch'io anch'io una foto no no Rubina vieni facciamo una foto insieme grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti